Continua l'allarme idrico in tutta la regione. A causa della scarsità delle precipitazioni è fondamentale tutelare la risorsa per permettere a ognuno di poter utilizzare un bene comune e i vari ecosistemi di poter sopravvivere. Dopo l'invito della Presidente della Ruzzo Redi, Alessia Cognitti, a non sprecare l'acqua e dopo le varie ordinanze sindacali, nella provincia di Teramo il gruppo Carabinieri Forestale ha intensificato i controlli per contrastare l'utilizzo improprio delle acque pubbliche. L'attività di monitoraggio su 13 casi esaminati è accertato in due circostanze e prelievi abusivi di acque profonde e di superficie, in mancanza di autorizzazione del dispositivo atto alla misurazione delle portate. Per i trasgressori le sanzioni amministrative vanno dei 9.556 mila euro. A Teramo la concessione delle autorizzazioni per l'utilizzo delle acque pubbliche di fiumi e falde acquifere è regolato dagli uffici del Genio Civile. Nel corso di questa settimana la Ruzzo Redi è stata costretta ad interrompere i servizi durante la notte, sui territori dei vari comuni dell'entroterra, sulla base della necessità dei serbatori di ricaricarsi, per un'attività che normalmente avviene durante la notte, per circa 7-8 ore. Una situazione resa ancora più critica dagli sprechi. Per questo dunque l'attività illecita derivante dal prelievo di acque pubbliche verrà controllata intensamente dagli organi competenti anche nei prossimi giorni e potrebbero arrivare nuove sanzioni.